Sono andata anche a Cerignola, ho portato un po' di... E ma a questo punto ti vogliono a Picerno e ci andremo e a Taranto naturalmente. Devo andare, devo andare. Devo dire che sarebbe bello mandarle tutte e tre in Serie C perché stanno facendo un campionato pazzesco e devo dire, rispetto alle attese, soprattutto il Picerno, è veramente una straordinaria rivelazione. Sono cominciate le partite anche... sono cominciate le partite in Serie A, si stanno giocando in questo super spezzatino iniziato giovedì con Lazio Empoli, si stanno giocando Atalanta, Spalto, Rinudinese, Sampdoria, Frosinone, dalle ore 15 alle 18 Sassuolo, Juventus, alle 20 e 30 Milan Cagliari, ma che pure ricordarle diventa un problema. È ricominciata a Bari e poi priorità a Foggia, quindi flash di Casulli e poi Palmieri. Alessio! Attenzione! Pericolo adesso... Adesso la battuta di Brienza precisa... Bravo! Rino, commenta la punizione! Eccola qua, eccola qua, sta arrivando la giocca di punizione, Foggia che si stiera a zona, come sempre, lì nella propria area di rigore, tutti in linea, i giocatori del Foggia, pallone che si stiove in aria di rigore, in fallo però commesso ai danni di Ranieri. Cazzo di punizione per il Foggia, 11 minuti. Grazie Rino, facciamo intanto a sentire Sardella? Ce l'abbiamo Luca, che succede a Monopoli? Luca, 30 secondi, non di più. Succede che al 33 si va in Monopoli dei... Voi non sentite freddo? E vuoi scoprirti un po'? Barbara, dici tu, perché non è che fa freddo qui. Va bene, allora, sentiamo, 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 ho detto, buona sola, ho detto sentiamo, ho detto vediamo, ho detto Sencardi, lo possono sentire anche loro. No, non di Cardi, no, si parlava di Inter, no? A parte il fatto che è pazza, è pazza lo è. Di Vecino, di Versalico, di chi sai? No, del prossimo allenatore. Di chi? Ma che parata ha fatto il portiere dell'Udinese? Incredibile a Torino, scusa, qui si vediamo pallone dappertutto. Lo so, lo so, abbiamo 800 televisore davanti. Dici un po', dici un po' di questo football gossip, dici, 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 dici. No, che, insomma, sembra sempre più vicino un conte all'Inter, che tra l'altro avrebbe già fatto le sue richieste. Le sue richieste sono di 8-10 milioni di euro, a stagione più potere assoluto. Beh, si è mamarotta però, si è mamarotta al freddo, di annunciare dove alleneranno l'anno dopo, perché l'ha fatto con Gattuso, l'ha fatto, no, 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 è la verità. È così, non è che ci dobbiamo ridere sopra. No, 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 adesso sulle sue fonti, cioè sull'origine, come ti devo dire, sulla genesi della sua attendibilità, non sindaco. Mai. Le sindacate, io non sindaco, però la zero l'aveva detto ieri sera, che avrebbe stato il pomigliano a quest'ora, è una cosa straordinaria. Allora, andiamo dove si gioca, lo Iacovone, andiamo fra un po' per commentare il primo tempo e andremo anche in video da Alfredo Ghionna, facciamo Foggia e Bari, dove si sta giocando a Foggia, la metà del primo tempo, invece, non si capisce bene, no, c'è ancora l'Europa nel mirino, la Sampadone, ma è detto che ce l'ha, ma è sempre nel limbo, arriva lì. Veli, oggi è in vantaggio. Viamo! Sì! Veli, dai, a meccano. Veli, vedi, questo va a sedere. È al countdown di cui Casulli è testimonial, vai Alessio. Vigore, questo è Torino, eh. Riva, riva. Sì, intanto c'è un cartellino giallo adesso. Ma scusa, ma se uno ha la... Ma che sei? Che sei? Ma ora è giusto. Ma non si possono dire queste cose. Il panico in studio, intanto... Cano sulla sinistra, prova a mettere in mezzo per croce. Ok, torniamo in studio. Esce Savini e blocca. Abbiamo Di Bitetto e Sardella. Andiamo da chi prima? Da Pino. Pino Di Bitetto, Biceglie, Biceglie e Trapani. 32 in corso, Alventura, 0-0 il punteggio. Gara che nel primo tempo è stata abbastanza equilibrata. Non che non lo sia in questo secondo tempo, ma le occasioni più nitide le ha avute. Prima il Biceglie con Giovannovic, palla alta, da ottima posizione. Poi in Zola è stato ipnotizzato dal portiere Ceropolini. Poi nel corso dei primi minuti della ripresa è stato Stagurdo, l'uomo più pericoloso della squadra ospite. Biceglie che tiene botta al cospetto di un avversario che è in forma in serie positiva da otto turni. E vuole accorciare le distanze dalla sua avversaria principale, ovvero la Juve Stabia, Capolita. A che minuto siamo, scusami Pino? E quindi siamo esattamente al 32esimo, 0-0 il punteggio. Partita ancora viva. Era compromessa invece, numericamente lo è ancora, quella di Monopoli. Sentiamo da Luca Sardella la reazione di Monopoli che Luca ci ha detto all'inizio essere oggi particolarmente in difficoltà con gli assenti. Luca? Come va? Sì, Mauro, ti confermo tutto. La reazione c'è stata in parte molto gioco a centrocampo, ma azioni pericolose da mandare in filta all'estremo difensore naziale. Non ci sono state, mancano 9 minuti. Il vantaggio della Viterbese è sempre di 2-0. Viterbese che ora sdota la sua azione in avanti, lo ricordiamo, Viterbese, allenata da Antonio Calabro, per lui sarebbe eventualmente il terzo successo consecutivo. Se si considera il passaggio del turno di Coppa Italia, sarebbe addirittura un poker di vittorie dopo l'esordio con sconfitta di Reggio Calabria. Monopoli 0, Viterbese 2, 8 minuti al termine. A te, Mauro. Non esce più il Savoia dall'area di rigore. Palmieri e Ghionna. Rino? 9 minuti e 15 secondi nella ripresa. Poggio è in vantaggio di Sino Aldeli, che ha anche visto in Galano. Si sveglia l'occascheria, capisce il momento importante in cui il Poggio sta accettando di direttore. Ricordo, in Serie A comunque sono 2-0-1 clamorosi al momento. Ancora siamo intorno al sessantesimo. Atalanta Spal 0-1, Sampdoria Frosinone 0-1. 1-0 il Foggia. Mi permetto di dare una piccola priorità allo Iacovone per Taranto-Savoia, perché mancano credo 6-7 minuti. E lì è 0-0. Alfredo? 37esimo, quindi 8 più recupero. 0-0 tra Taranto e Saboia. Con il Taranto che... Più cuore che organizzazione però, eh. Più, più, più... Sì, dobbiamo dire anche che il terreno... Pino, non te ne andare, riprendiamo da qui. Era veramente un'impresa che si chiedeva ai ragazzi di Fanoli. Complimenti a Rodolfo. Andiamo allo Iacovone e poi sentiremo Pino di Pitetto per il finale. Alfredo! Gionna! Non si fa così. Era il forcing offensivo da... praticamente... dal momento in cui aveva raggiunto... Il gol comunque è stato convalidato al di là di un dubbio che in questo momento sinceramente ai tifosi del Taranto non interessa. Veniamo da te dopo il triplice fischio. Adesso torniamo da Pino di Pitetto perché, credeteci, è un'impresa sportiva, quella del Bisceglie, che blocca il Trapani, viste le condizioni di tutte e due. 30 secondi Pino di Pitetto. Ah, come... Non c'è qua, c'è un problema? Non lo sentiamo più. C'è un problema. Va bene, andiamo da Rino Palmieri. Eccolo! Vai Pino! Vai, 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 vai. Allora, dicevo, è stato colto questo 0-0 con la vittoria. Intanto perché da cinque giornate il Bisceglie non faceva punti, ma anche e soprattutto perché lo spessore dell'avversario che ha pensato fino alla fine di mettere in difficoltà Cero Bolini non ci è riuscito, grazie ad una difesa ermetica, ad una squadra che è tornata ad essere una squadra al 100%, anche grazie ai ritocchi, ai rinforzi dal mercato invernale. Diciamo che il bisceglie... Grazie Pino. Grazie, che succede qui intanto? Grazie, grazie. Grazie, che succede qui intanto? No, quello che non ci spieghiamo è come vada la Brescia. Grazie, grazie. Hashtag Galano faccio un gol. Ah, proprio personalizzato. Così, sì. Si deve sbloccare perché è troppo tempo che non si sblocca. Ma noi sbloccheremo anche te perché ti sto vedendo chiusa. Vero? Sì, 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 sì. Lo so, ne ho bisogno. Sì, 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 ti devi sbloccare. Dunque, siamo ancora giocati. Aiutami. Ancora giocano. Sì, qualcuno dice che è un punto meglio di niente, però sicuramente i tre punti se l'avrebbero fatto molto comodo. Sul lungo a 0 il Foggia poteva chiuderla. Beh, sì, c'era avuto più pallegoni. Doviamo anche il palo costituto da Iemelo, ma altre occasioni. C'è un piccolo di rammarico per il saccio di vigore che probabilmente non c'era così. Doverete... Sì, onestamente. ...le neanche voi da studio, ma è chiaro che insomma alla fine poi la squadra è stata applaudita per continuare per cercare di perseguire questa salvezza diretta che non sarà semplice, ma crediamo sia... Sampdoria e Frosinone, la vera sorpresa della giornata in questo capolavoro incompiuto che resta alla Sampdoria che fa grandi cose e poi fa grandi frenate. Un po' come il Torino che invece oggi però tiene contro l'Udinese. Era un parere che cambia in base a questo VAR che annulla il gol di Okaka. Come vedete quindi l'Atalanta in questo momento sarebbe con la Roma al quarto posto, ultimo buono per la Champions League, con due punti sul Milan che potrebbe... Che potrebbe stasera... Che deve andare... No, potrebbe, dai, dobbiamo stare lì così. Può capitare che vinca col Cagliari e sarebbe una lotta a quelle quattro. Avete visto poi il video del giocatore del Cagliari? Perché è scalamante quel fatto mio. Non parliamo che... Ne partichiamo stasera alle 10 e mezza. Ne partichiamo stasera... Dunque, sentiamo Cerignola per il finale di Cerignola... Non mi ricordo, Sarnese era. Però l'importante è che Cerignola abbia fatto, devo dire, soffrendo poco, proprio i tre punti. Francesco Zagaria. Esatto, esatto, poche sofferenze, vi confermo il risultato. 2-0 per l'audace Cerignola, gara terminata da qualche minuto con i ragazzi che sono andati a prendersi. Gli applausi meritatissimi da parte del proprio pubblico. Naturalmente un po' di amarezza c'è per i risultati che giungono dagli altri campi, però come abbiamo detto la strada è lunga. Bisognerà attendere il recupero di mercoledì tra Picerno e Nola per capire un attimino quella che sarà la griglia delle prime e tre della gradatoria del girone H di Senni e D. Al momento abbiamo Taranto, Picerno e l'audace Cerignola, come ben sapete. E naturalmente bisognerà capire mercoledì come andrà a finire per avere chiaro il quadro della situazione. Va bene, Francesco. Un abbraccio forte a voi. Anche a te, grazie. Grazie. Ciao, grandissimo rush finale. Allora, Maurizio, andiamo con gli altri ospiti anche. Andiamo per campionati. Cominciamo dalla Serie A, Serie A che però vive ancora di due importantissimi episodi. C'è il match delle 18 tra Sassuolo e Juve. Credo che la Juve abbia come principale obiettivo quello di tranquillizzare in prospettiva Atletico Madrid i propri tifosi venendo da un periodo passato da un successo. Grazie Atletico Madrid che siete preoccupati. Io credo che, poverino Nicola... Sfortunato, sfortunato. No, no. Ma non ci posso credere. Allora, tiro del portiere dell'Udinese da tipo Rivera Italia-Germania 4 a 3. Il portiere è spiazzato, un salvataggio sulla linea di uno del Torino. Va a sbattere su un altro del Torino. No, sul braccio del portiere. Sul braccio del portiere va a sbattere sotto la traversa e torna in campo. Quindi salvataggio sulla linea e traversa nella stessa azione. Credo che non ci sia mai visto. Tifoso dell'Udinese.